e c'ha 30 anni buongiorno e siamo a gennaio, prima c'erano 25 gradi dentro il nonno con la stufa spenta al sole io non ho bisogno di andarmene a tarifa e che uno non va a tarifa allora non è un full time ma va a scossa c'è una minchia da banamone, va a tappare a immo perché full timer lo fai ovunque non vuol dire essere per forza in viaggio continuo ti muovi in una città che scegli perché ti piace, perché ti offre servizi e tutte le cose possono essere fatte secondo i propri criteri perché no non vuol direi finestra aperta, stufa spenta, è l'anno dei full timer buon appetito avete nuovi propositi per il 2019? e se si quali senti gente che dice anno nuovo vita nuova, davvero? comunque il popolo dei full timer è molto più grande di quello che si pensi ragazzi a parte tutto sono qui in un'area di scarico è molto più grande di quello che si pensa ragazzi molto di più grazie a tutti